Buona giornata amici, oggi è venerdì 27 agosto, ben ritrovati, questa è la rassegna stampa di Fano TV, come sempre daremo un'occhiata ai giornali quotidiani con cronaca locale, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino, ma prima vediamo qual è il santo del giorno e poi il meteo. Il santo è Santa Monica, una delle sante più famose della chiesa cattolica fu la madre di Agostino, sepolta ad Ostia, l'ido di Ostia, era nata a Tagaste nell'Africa settentrionale, era andata a Milano a trovare il figlio, il figlio era noto, molto noto perché era Sant'Agostino, all'inizio Sant'Agostino aveva vissuto in modo irregolare e poi era stato convertito anche dal buon esempio della madre, di ritorno dalla visita la madre si fermò a Ostia per imbarcarsi, ma qui fu colta da malattia e morì, è una delle sante più venerate appunto insieme al figlio. Ed ora diamo un'occhiata al meteo e vediamo che il tempo si sta rannuvolando di nuovo dopo la bella giornata di ieri, il tempo ci dice che abbiamo una mattinata variabile tra pomeriggio e sera, c'è un innesco di rovesci e temporali sparsi nell'entroterra e verso le coste, c'è anche un calo di temperatura, il vento spira medio con forza media da nord-est. Ed ora diamo un'occhiata al prime pagine di entrambi i quotidiani questa mattina a partire dal Corriere Adriatico. Vediamo, obbligo vaccinale unica via e la sanità campeggia su entrambi i quotidiani come titolo di apertura. Obbligo vaccinale unica via, intervista sul Corriere Adriatico al professor Menzo che è il direttore di virologia all'ospedale di Torrette, spero che qualche paese faccia da pripista, ha dichiarato. A Senigallia c'è stato un confronto tra Silvestri e Clementi. Il lockdown non risolvono il problema, la scienza e la soluzione hanno dichiarato e hanno convenuto ovviamente. La fotonotizia è dedicata ad un fatto di cronaca accaduto a Pesaro, cede un cornicione in via Almerici sfiorate mamma e figlia, però insomma non è accaduto nulla di grave, insomma però il pericolo c'è stato. Le tre notizie a centropagina, l'ordine dei medici sospende i Novax, il nodo dei controlli, un servizio di Letizia Francesconi, avremo poi anche un'intervista al presidente dell'ordine Battistini. Marche Nord, azienda provinciale per frenare la mobilità passiva, il modello che si sta organizzando per la sanità provinciale e poi ancora il maltempo. Il fango invade anche il ristorante, ingenti danni, vedremo poi di cosa si tratta all'interno. Ancora sulla scuola per l'inizio del nuovo anno scolastico c'è un monito degli studenti, guai a voi, dicono i ragazzi alle autorità scolastiche, guai a voi se ci mettete ancora in dad, insomma i ragazzi vogliono frequentare la scuola, vogliono stare insieme. Appalti per oltre 15 milioni, bando per il ponte sul Foglia, il comune va a gara per la struttura ciclopedonale. L'operazione rientra nel pacchetto delle periferie e poi a Fano, fermo pesca, un'odissea tra prezzi alti e poca scelta. Sanità anche sul resto del Carlino, medici pentiti, ora 13 si vaccinano, erano stati sospesi, ora saranno reinseriti, ne restano fuori 8. Il presidente dell'ordine dice ho ricevuto attacchi dai colleghi. Ristoranti nel fango, quello che vediamo è il ristorante La Giara nei pressi di Santa Maria dell'Arzilla, un ristorante invaso completamente dalla melma. E poi ancora scatta lo stop per 10 farmacisti non immunizzati, oltre i medici anche i farmacisti sono tenuti a fare il vaccino. E poi l'attacco di Mangialardi, che era candidato alla presidenza della regione per il centrosinistra, tamponi salivari, la regione, dice a seconda in OVAX, una polemica che ha intentato l'esponente dell'opposizione. sullo sport, la vis parte, ecco come sarà la serie C. E poi per quanto riguarda il basket, l'AVL, Moretti è negativo, l'incubo è finito. Ed ora diamo un'occhiata all'interno del resto del Carlino a ripartire dalla sanità. E abbiamo la presa di posizione di Mangialardi, ex sindaco di Senigallia, ed ora consigliere regionale. Dopo le proposte di Saltamartini e Latini sull'uso dei tamponi salivari per ottenere il Green Pass, il consigliere regionale PD accusa. Accusa perché dice che la regione incontra in OVAX, mentre Saltamartini aveva detto noi incontriamo tutti, poi prenderemo le nostre decisioni. Però ci sono dubbi sollevati dall'opposizione, cioè dal centro-sinistra. Al di là degli annunci, come intendono organizzare i servizi? A settembre saremo ancora nel caos, afferma Mangialardi. E poi il pentimento di 13 medici. Ora si vaccinano, così saranno rienseriti. Il Presidente dell'Ordine Paolo Battestini dice che alcuni si erano già immunizzati fuori regione. Senza però dirlo, molti lo hanno fatto però solo ora. Poi svela, ho subito attacchi dai consiglieri perché procedo contro chi non accetta le regole, ma continueremo senza indugi a farlo. E qui vediamo appunto Battestini e qui una operazione di vaccinazione. Sull'altro fronte, quello dei farmacisti, scatta lo stop anche per i primi dieci farmacisti. E qui abbiamo la foto del Presidente dell'Ordine, Giovanni Pierini. Per il momento sono solo dieci provvedimenti disciplinari per altrettanti farmacisti non vaccinati nella provincia di Pesaro Urbino. In questi giorni, infatti, l'Ordine professionale ha notificato le prime sospensioni agli operatori che si sono sottoposti alla vaccinazione contro il Covid, che non si sono sottoposti alla vaccinazione contro il Covid, su un totale di 750 farmacisti. Tant'è che nelle prossime settimane potrebbero arrivare anche nuove altre sanzioni, perché poi i farmacisti non vaccinati potrebbero essere anche di più. E una coda alla situazione della sanità è quella del trasporto pubblico. Accordo sui bus scolastici. Saranno pieni fino all'80%. Non verrà chiesto il Green Pass, ma i controllori aumenteranno di numero. E questo ovviamente è in previsione dell'inizio dell'anno scolastico. Saranno potenziate le corse principali e si salirà sempre con la mascherina. Oggi le linee guida dovrebbero essere convalidate dal Comitato Tecnico. Tutto dovrebbe essere comunque pronto per il 15 settembre. Vediamo che la capienza dei bus rimarrà all'80%, anche se la scuola tornerà in classe al 100% in presenza. E quindi ovviamente i bus in servizio dovranno essere aumentati, perché altrimenti non si riesce a soddisfare tutte le esigenze. Ballavano in 250 al Tropicana di Morciola. La polizia irrompe nella festa e chiude il locale. I gestori e i proprietari sono stati multati con 400 euro ciascuno per aver violato le norme anticontagio, avendo organizzato una vera discoteca. Era già il quarto martedì che in ugoli di giovani si ritrovavano lì appunto sul posto e ballavano sulle note di un DJ, mentre un vocalista addirittura incitava tutti a gettarsi nella mischia. Ovviamente gli assembramenti sono sempre, non dico sconsigliati, ma sono addirittura vietati. In questo caso c'è stata molta sconsideratezza. Dopo quattro serate con dei post sui social di diverse persone che accusavano il locale di violare la legge, visto che faceva discoteca, martedì scorso è arrivato il controllo congiunto di un numero ingente di agenti che in poco tempo hanno fatto chiudere bottega, raccogliendo anche una serie di testimonianze da parte di chi stava ballando. I clienti comunque non hanno avuto multe. Visite specialistiche. La sanità è in quarantena. Anche il Covid ha dilatato i tempi a causa del distanziamento della sanificazione e poi c'è il problema degli spostamenti in altre città. Questo è un problema che era stato già messo in evidenza nei giorni scorsi dai giornali. Ebbene la situazione è veramente tragica, diciamo così, perché per avere un risultato occorre aspettare tanti tanti giorni, non meno di 60 per avere un appuntamento per una coloscopia, mentre se si ha bisogno di una risonanza magnetica all'encefalo, il primo posto disponibile è il 6 settembre, ma a Urbino una visita endocrinologica, prenotata ieri, si potrebbe fare già oggi a Dancona. Sono queste alcune delle criticità della provincia di Pesaro. Il fatto di non avere le prestazioni nel proprio ospedale o proprio in un ambulatorio Asur, se ci sono, dover attendere molto tempo, insomma ha destato diverse proteste, diverse critiche. In realtà, dice il responsabile, in realtà nel 90% dei casi le impegnative prioritarie, quelle che hanno proprio la documentazione di essere prioritarie, trovano un appuntamento nei tempi dettati dal piano nazionale. Ed ecco qui il ristorante La Giara di Santa Maria dell'Arzilla, invaso dal fango. Il locale, dopo la pioggia che è caduta all'alba di mercoledì scorso, è stato seriamente danneggiato. Ieri al fianco dei titolari per ripulire le stanze c'era anche la protezione civile, c'erano anche altri volontari. Genica abbandonato e qui arriva di tutto. La protesta del titolare dei bagni Ciro con lo stabilimento vicino alla foce interessata dalla piena. Ai bagni Ciro, in fondo al Genica, sanno perfettamente cosa significa arginare gli effetti di una piena. Non è la prima volta che lo fanno, quindi occorre il lavoro. E qui ancora una volta il resto del Carlino pubblica la montagna di rifiuti che il mare ha gettato sulla spiaggia. Insomma, un problema da risolvere. E poi vediamo qui Zoe Mini Micro Festival. Ci siamo. Un sabato di dibattiti e divertimento. Torna a Monteciccardo la rassegna in versione ridotta, ma gli spunti saranno molti al conventino, appunto, che è il punto di ritrovo tipico di Monteciccardo. La Zoe Mini Micro Festival, un contenitore di musica, arte, creatività e innovazione, è stato progettato e pensato dalle giovani generazioni e organizzato dall'associazione Zoe con co-finanziamento della regione Marche. Ancora sulla pagina di Fano troviamo l'apertura dedicata al risultato delle vaccinazioni senza prenotazione che si sono svolte al camper delle vaccinazioni che è stato installato nei pressi della fiera di San Bartolomeo, che si è chiusa ieri. Fiera è vaccino e il patto funziona. In mezz'ora una quarantina di dosi. Il camper dell'Asur, tornato ieri davanti all'OIAT, ha bissato il successo del debutto quando erano state conteggiate 76 somministrazioni. Il dottore Carlotti dice «Compensato il calo negli hub, continueremo su questa strada». Venerdì scorso a Marotta «Abbiamo fatto il botto con 120 persone, la regione dunque vuole proseguire». Una bella iniziativa della Fondazione Carifano. Ha acquistato sei piatelletti dei 1500 che una volta decoravano il pavimento della chiesa di Santa Maria del Riposo. Una chiesa che purtroppo è stata demolita negli anni 40. Un meraviglioso pavimento in maiolica realizzato nel XV secolo, disperso in tanti musei europei. La Fondazione ha recuperato sei formelle di tutte quelle che un tempo costituivano questa meraviglia che è stata poi dispersa alla fine del 1800. Le opere furono smurate, cedute a musei e collezionisti in tutto il mondo, precisa il resto del Carlino. E di queste formelle è stata allestita una mostra nella Sala Morganti dei Musei Civici con contributi anche di altri musei, soprattutto del Museo di Roma. Deriva dal particolare decoro di cui la parte circolare ricorda un piatto, dice il nome dei piatelletti. E poi sei milioni per trasfigurare il Sant'Arcangelo. Ieri la Giunta ha approvato il progetto esecutivo della ristrutturazione del Sant'Arcangelo progettato dal celebre architetto Italo Rota. E ci saranno addirittura anche, tra le tante iniziative, tra le tante novità che caratterizzano questo nuovo progetto, ci saranno installazioni artistiche dello stesso Rota, dello stesso architetto Rota, si chiama Italo e non Ivan come è stato erroneamente scritto in questo sommarietto. Comunque in questo articolo vediamo tutte le novità, tutte le bellezze architettoniche ma anche funzionali di questo nuovo apparato. E poi per quanto riguarda la polemica del Carnevale, ricordiamo che domani si celebra a Fano, domani domenica un'altra fase del Carnevale, dopo la Sassonia si entra in centro storico. La polemica intentata da Alfredo Pacassoni risponde oggi Giannetto Palluzzi, che repica alla stroncatura del carrista, basta critiche, dice diamoci da fare. Lo stesso Pacassoni, che è un provetto carrista, potrebbe contribuire alla valorizzazione del nostro Carnevale. Ancora polemiche per quanto riguarda gli alberi che dovrebbero essere abbattuti in piazza Andrea Costa per realizzare quel progetto di arredo che è stato redatto dal Comune. Giù le mani da quei dodici tigli, lo dice anche l'agronomo. L'associazione Lupus in Fabola sospetta che la scelta dell'abbattimento sia dovuto dall'esigenza di ricollocare le bancarelle del mercato. Sulla pagina di Urbino, la festa dell'Aquilone si farà alla Fortezza. Sarà un'edizione in chiave ridotta, favorito ovviamente l'ingresso ai bambini. Anche quest'anno l'attesa gara tra le dieci contrade cittadine. Una sessantaseiesima edizione che però tornerà alla formula originaria, ovvero alla Fortezza Albornoz per via del Covid. Sarà contingentata, favorendo l'accesso ai più piccoli, e si svolgerà domenica 5 settembre dal primo pomeriggio. Una bella festa che, ricordiamo, fu menzionata anche da Giovanni Pascoli. A San Lorenzo in Campo, maxi impianto fotovoltaico. La strada si fa in salita. Il Tar da ragione al Comune servirà la valutazione di impatto ambientale. Ebbene, su questo impianto la società Ensurs Renewable vorrebbe realizzare nel Comune un impianto in località San Severo, Bagnara. Il Tarmark però ha dato ragione alla provincia e al Comune. Il progetto non può essere soggetto a semplice autorizzazione unica, ma ci vuole la valutazione di impatto ambientale. E qui, ovviamente, i tempi si allungheranno. Quindi vediamo, completiamo la rassegna stampa sul resto del Carlino con il Festival del giornalismo, via all'anteprima. All'eremo di Fonte Avellana, in scena un appuntamento su Dante. Protagonisti, Piero Dorfless, e il priore, padre Gianni Giacomelli. Qui vediamo una delle principali organizzatrici di questo Festival del giornalismo, Lella Mazzoli. È una integrante apertura, ferma, valore e difesa della parola. Sono al centro della riflessione. E allora passiamo al Corriere Adriatico. Abbiamo già visto la prima pagina. Apriamo il giornale all'interno. Saltiamo, ovviamente, il problema della sanità, di cui abbiamo già parlato. E vediamo che cosa il Comune intende fare per bonificare il Foglia. Appalti per 15 milioni, il primo bando sarà per il ponte sul fiume. L'8 settembre il Comune chiuderà la gara per la struttura ciclopedonale. L'operazione è del valore di 4 milioni e tutto questo rientra nel pacchetto delle periferie. Il cantiere, anche la rinnovata scuola Dante Alighieri. Ci sono soldi e quindi vanno spesi in questo senso. Via Almerici cede, cornicione, sfiorate mamma e figlioletta. Piovono calcinacci all'ora del passeggio e è stata transennata la strada. Dobbiamo dire che in questo caso è andata bene. Una giovane mamma che spingeva la carrozzina con la sua figlioletta di pochi mesi ha avuto l'istinto di spostarsi e fuggire prima che la pioggia di calcinacci li investisse con il rischio di ben più serie conseguenze al di là del comprensibile spavento che ha provato di fronte all'improvviso crollo. Poi vediamo anche il Corriere Adriatico si interessa dei medici non vaccinati. Si parla appunto delle dichiarazioni di Battestini. Ora si aprirà la questione dei controlli. Mentre questo articolo firmato da Lorenzo Furlani evidenzia qualche prospettiva su Marche Nord e sull'azienda ospedaliera che diventerà provinciale. Il piano originario non ha tenuto. Il centrodestra dice sistema da riqualificare contro la mobilità passiva. C'è uno studio della Politecnica delle Marche. Ci sono dichiarazioni contrastanti ovviamente da parte di Andrea Biancani dell'opposizione e di Carlo Ciccioli della maggioranza. L'ospedale di secondo livello che la Giunta regionale ha in mente di realizzare serve un bacino da 600 mila a 1,2 milioni di abitanti. Questo è il modello che viene proposto e dovrà essere comprensivo di medicina nucleare, radiologia interventistica, nefrologia, neurochirurgia, neuropsichiatria infantile, ematologia ai centrotrapianti, diabetologia, chirurgia toracica e malattie infettive. Insomma un apparato piuttosto considerevole. In dieci anni resta quasi invariata però la mobilità è passiva e questo è un problema da risolvere. Un torrente di fango invade il ristorante volontario all'opera per ripulire la giara. Il titolare danno ingenti mai visti una cosa così. E poi ancora i ladri si accontentano della cassa acustica. I malviventi non sono riusciti ad aprire la cassaforte. Altri furti a Pesaro, in abitazioni, in zona mare e in collina. E con l'estate purtroppo questi episodi si ripetono in continuazione. Sulla pagina di Urbino si recuperi l'ex fornace Volponi come vetrina di tutte le attività. Il gruppo consigliare Urbino e il Montefeltro sprona la Giunta a combattere il degrado. I consiglieri segnalano anche l'insanamento del versante Santa Chiara e del Belvedere. E poi ancora Fano, Fermo Pesca, Che Calvario, prezzi alti e pietanze rare. Lamentele sia dei rivenditori sia dei ristoratori. Questo è il clou della stagione turistica. Ebbene, ancora una volta si persiste nell'organizzare il Fermo Pesca nel mese di agosto, quando il pesce è più richiesto nel corso dell'anno. È un mese dove ci sono i turisti, attratti anche dalla gastronomia locale, di cui il pesce è una componente essenziale. Ma se il pesce non c'è o si trova fatica, è difficile anche cucinare un brodetto. E questo lo evidenziano i ristoratori, mentre i pesci vendoli dicono abbiamo sì pesce locale, poco, per rimpinguare il bancone. Dobbiamo così fare acquisti anche per il pesce del Tirreno. Schianto fatale. La Procura dispone l'autopsia. Massimo Pastore, l'uomo deceduto nel corso dell'incidente che si è svolta l'altro giorno sulla strada di Camminate, di 48 anni, e la salma verrà esaminata dai medici. Si vuole capire che cosa ha determinato l'incidente, se l'uomo ha avuto un malore, oppure è stato una disattenzione, oppure un problema di velocità. Comunque l'uomo viveva solo a Cerasa. La sua compagna si era trasferita in Ucraina. Lui stesso viene descritto come un uomo buono, un uomo non molto sociale, non aveva molti amici, però insomma era un uomo che viveva secondo i canoni civili, secondo l'educazione. Le schiume analizzate dall'ARPAM prelievi pure presso gli scolmatori. Certamente in corso l'ASET puntualizza. Non abbiamo visto acqua nere sull'Arzilla. Nei giorni scorsi si è verificato un insolito fenomeno sul porto canale, probabilmente determinato dalla pioggia. Dei giorni scorsi l'acqua dilavando sul selciato ha portato con sé anche gli elementi che ci sono appunto sull'asfalto, determinando della schiuma che è scorsa sulla corrente sul porto canale. E poi il sottopasso dell'Arzilla inaccessibile ai pedoni. Sembra che il problema si sia risolto nella giornata di ieri. Val Metauro, dalla semina al cielo, storia di un agricoltore visionario. Martedì al Ministero di Montebello, una PS su Gino Girolomoni. L'uomo che ha, non dico che ha inventato ovviamente, ma che ha valorizzato, che ha promulgato in tutto il mondo l'agricoltura biologica a 50 anni dal suo inizio. Ed ora diamo un'occhiata allo sport. Vediamo che la Vis si appresta a disputare il suo campionato, campionato al Via, Modena, grande favorita. Vis ha la quarantesima partecipazione, la diciannovesima nel livello più alto della terza serie tra C1 e C, ultimi colpi di mercato. Ed è il campionato, questo del rimescolamento orizzontale, con appena sei reduci della scorsa stagione, comprese le tre marchigiane. E quello delle retrocesse dalla B, tre, e delle ripescate, tre toscane. Tanti i volti nuovi, alcune società passate di mano, vedi il Modena, superpotenza, e il Molese, metà delle banchine cambiate, dieci su venti. Quindi gli allenatori sono stati rimescolati anch'essi. Per quanto riguarda il Fano Calcio, vediamo che Giorgini è passato definitivamente al Latina, chiuso il caso, l'accordo è stato raggiunto. Il presidente russo annuncia la ristrutturazione del settore giovanile, Agliano responsabile ad interim dopo il rifiuto di Danzi. E questa era l'ultima notizia, Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento al TG di Fano TV delle 20 e 30. Buona giornata.